non 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 c'era qualcuno giù che ha gridato ha fatto proprio un grido da e svegliati specie di chirona quando dormi non mi devi svegliare su e quando ti devo svegliare allora mai buon dio amore ti ricordi quattro anni che hai consato che hai? erano 12 e 13 perchè io qui ho scritto 12 ma forse hai sbagliato c'è a te? povero cazzo mio così ti vengo d'amore ancora più solo di me è da buttarsi giù dal bar fuori non sei solo lei ma che cazzo dici? la buttiamo via che sta piatta ma non lo so è sempre stata lì eh ma è sempre stata morta ah ahahah amici Alex sassatelli salata amuletta ahahahah a me ronna c'è maturato poi ci do un bacio così magari funziona come nelle favole con il rospo e la principessa naturalmente tu sei grosso mi hanno detto così impari ma io non potevo non ce la facevo mi hanno fatto mangiare la mia tartalupa mi hanno fatto mandare dunque capisci allora dopo 4 giorni gli ho detto ma adesso Brutus sarà nel paradiso adesso Brutus sarà nella luce sai cosa mi hanno risposto no è nel tuo stomaco alex lei è morta come la mia tartaruga l'abbiamo ammazzata noi devo fare una sciarpa per lui ma che cazzo di merda hai pensato che cos'è una sciarpa magica me la metto addosso e finisce tutta questa merda e viviamo in un mondo felici come principi tu sei pazza siete tutti pazzi l'unico santi venti in questo manicomio di stronzi sono io ma non è così ma non l'ha fatto per conto non è così non è così la verità la verità è che lui non capiamo perché l'ha fatto sta succedendo qualcosa di strano in questa casa ho girato il sole un mese tutti torti come avevo commesso a posto giusto di lo stesso sono un vento che soffia adesso se c'è qualcuno che dice che l'amore non esiste io ho detto che esiste grazie 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 grazie